La Messia, credi nel grande amore di Gesù Cristo, credi nella parola di Cristo, questo mondo passerà, ma chi segue la volontà di Dio, dure in eterno, città di Varese, ascolta, la parola di Dio. Solo Dio può cambiare i nostri cuori, è vero, credi, e lo so, c'è tanta confusione, ma Gesù è la speranza, abbia fede, lo so, ma Cristo cambia il nostro cuore, se noi abbiamo fede, sono persi, per questo che Dio vuole che predichiamo, Dio vuole che predichiamo, no, ci vuole l'amore di Dio, l'amore di Cristo, no. La verità è la vita, città di Varese, ascoltate il messaggio del Vangelo, Gesù Cristo disse, adesso la malvacità si è moltiplicata, alleluia, gloria a Dio. Credete alla vita eterna, credete nel Signore Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è il Salvatore che Dio ha mandato, come dice il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 16, poiché il Dio ha tanto amato il mondo, ti ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non si perda, ma abbia la vita eterna. Ascolta città di Varese, non ti perdere nei tuoi peccati, non ti perdere lontano dal Signore, non perdere la tua anima, lontano da Gesù Cristo, non avere un cuore di pietra, non seguire le false religioni, non seguire le teorie umane, segui Cristo, Cristo è l'unica salvezza, credete nel Vangelo, avvicinatevi alla Bibbia, avvicinatevi al Vangelo, avvicinatevi a Cristo, e allontanatevi dal male, allontanatevi dal peccato, allontanatevi dal buio, credete nel Re dei Re, alleluia, andiamo più avanti a predicare, innalzati il Re di gloria, credete alla parola del Signore, cari di Varese, è una grande gioia essere qui questa mattina per predicare il messaggio della salvezza, il messaggio della fede, così come i primi discepoli predicavano in ogni modo nelle strade di Gerusalemme, nelle piazze, nelle città, così ancora oggi il Vangelo deve essere predicato perché la maggior parte dell'umanità è perduta, lontano da Dio, la maggior parte degli esseri umani sono come delle pecore sbarrite, sono come delle pecore perdute, e si stanno perdendo nei peccati, nei vizi, nella ribellione, nell'incredulità, ma vi vogliamo dire questa mattina, avvicinatevi a Cristo, Dio la benedica, di noi, Dio la benedica al Signore, of cuántico di noi, Dio la benedica, del Signore, Ammè Christo, convertitevi, siamo negli ultimi tempi, questo mondo sta andando verso una fine, Popolo di Varese Avvicinatevi a Gesù Cristo Gesù Cristo è l'immagine del vero Dio Chi conosce il figlio conosce il padre Chi non ha il figlio non ha il padre Al padre si arriva tramite il figlio Non tramite un'organizzazione umana Non tramite la torre di guardia La Wastaguer o il mormonesimo o il buddismo Ma solo tramite Cristo Che è la via, la verità e la vita Cristo è la via, la verità e la vita Abbandonate le vie peccaminose Credete in Gesù Cristo Alleluia Dice la Bibbia cari di Varese Nel Vangelo di Giovanni Capitolo 1 verso 1 Dice così la Sacra Scrittura Nel principio era il verbo Il verbo era con Dio E il verbo era Dio E quel verbo, alleluia, che è la fonte della vita La parola che è Gesù Cristo Alleluia E nel principio il verbo, alleluia, che è la vita, la luce, la gloria E quel verbo si è fatto carne Ed è venuto sulla terra Nella persona di Gesù Cristo Alleluia Ecco perché Gesù Cristo è divino Non è solo un uomo Alcuni dicono Gesù era un uomo Un buon profeta, un buon maestro Era un uomo Era un bravo predicatore Non è vero Non era solo un uomo Lui è divino Lui è venuto dal cielo Alleluia Per salvare i peccatori Le peccatrici Gesù Cristo è il re dei re Gesù Cristo è il messia Gesù Cristo è il figlio di Dio Gesù Cristo è il salvatore Se tu credi questo sarai salvato Ma se tu non credi Andrai all'inferno Perché non riconosci la verità di Cristo il messia E vi voglio dire La Bibbia dice Che Cristo nell'ultimo giorno giudicherà l'umanità Alleluia Verrà un giudizio universale Alleluia Cristo giudicherà gli uomini Cristo giudicherà l'umanità nell'ultimo giorno Ti voglio dire Chi è che può giudicare l'uomo Se non soltanto Dio Solo Dio può giudicare Nessun uomo può giudicare L'umanità nel giudizio finale Ma solo Dio Ecco perché Cristo è divino Cristo Alleluia Cristo è il figlio di Dio Alleluia Credete in Cristo Credi in Cristo Apri il cuore a Gesù Ti vuole illuminare Ti vuole salvare Chiedi perdona a Lui Che è morto sulla croce Anche per te Come ti chiami? Di dove sei? Di dove sei? Lui mi ha sempre invitato Al momento è peggiore Chiedi perdono a Lui